Partiti, non i partiti politici, no, non vogliamo parlare di quello. Partiti nel senso che siamo partiti per il nuovo anno pastorale, pensiamo che tutte le parrocchie, tutte le comunità cristiane hanno un po' avviato le loro attività, sia di stampo catechistico, sia di stampo liturgico, sia nelle attività anche caritative. Non perché l'estate metta tutto a tacere per carità, perché la parrocchia non va a dormire neanche d'estate, però è chiaro che il ritmo è diverso. Oh Don Giovanni, sarebbe anche interessante, tu parroco della parrocchia di Vertova, come è stato caratterizzato questo primo tempo, questo primo passaggio dell'attività, anche perché anche tu hai detto, ormai lo sanno tutti in alto e in basso, che siccome siamo un po' sguarniti di preti, mi pare che anche a livello oratoriano hai fatto una scelta di avere un collaboratore che non è un sacerdote, il che è una cosa abbastanza originale sulla attuale almeno scenografia della diocesi di Bergamo. Cioè la parrocchia di Vertova come si sta muovendo in questi primi passi del nuovo anno pastorale? Beh, logicamente la parrocchia non è fatta solo dal parroco, ma è fatta dal parroco, dai laici e dai consacrati, e diciamo così tra i consacrati abbiamo soprattutto anche le suore, che hanno una certa età, però loro si prendono cura in modo particolare della scuola dell'infanzia. Ecco invece all'oratorio, ho visto che naturalmente, seguendo un po' il proverbio vergamasco, se chi è melù alla sosta giù, ho capito che bisogna prendere delle persone più giovani, ed ecco loro ho preso Matteo per un anno, speriamo veramente che possa essere un po' il coordinatore dell'attività dell'oratorio. Però siamo partiti prima di tutto cercando di incontrare i genitori dei ragazzi che verranno poi iscritti alla catechesi, per capire un po' perché li mandano, perché ti capita magari che dicono, insomma, io mando lì il mio figlio, però io sono allergica alla chiesa, se non viene la mamma e il papà, cosa tiriamo insieme noi. Poi naturalmente in una parrocchia, sai, ci sono anche tante attività, pensiamo a quelle sportive, nella mia parrocchia abbiamo cercato di far collaborare la Vertovese con il CSI, e sembra che la cosa vada avanti bene. Poi diciamo, tutte quelle che sono un po' le attività, in modo particolare anche tradizionali, noi adesso ci stiamo preparando attraverso una settimana della comunità alla solennità della Madonna del Santo Rosario, di cui in tante parrocchie, anche a Vertola, sono devoti. Poi ecco c'è questa casa-albergo per gli anziani, naturalmente anche lì non si possono lasciare, però si cerca di impostare qualcosa per partire tutti insieme, ecco non dimenticandoci del protagonista, che è il Signore, perché noi possiamo fare tutto quello che è possibile a noi uomini, poi sarà poi il Signore, il buon pastore, a condurci in questo nuovo anno, che poi stando anche alla Chiesa ha tanti avvenimenti, tanti richiami, compresa la bellissima lettera del Vescovo, donne e uomini capaci di carità, di amore, ecco come stile di vita. Però tu hai scantonato un attimino su quel Matteo, Matteo, perché detto così, Matteo in oratorio, tutti pensano che tu abbia dimenticato il Don, perché in oratorio, finora almeno è successo, però adesso sta succedendo sempre di meno, c'è un Don Matteo, mentre tu hai detto solo Matteo, è un errore oppure è proprio una realtà diversa nel tuo oratorio? Don Matteo è in televisione, il mio è solo Matteo, Matteo ed è un po' un collaboratore e a lui ho dato anche delle priorità, oltre che coordinare un po' così il mondo del volontariato, ecco della catechiesi e dello sport, ho detto in modo prioritario di gestire un po' quelli che sono i ragazzi del post-cresima, terza media e superiori, quindi lui con un gruppo di altri giovani ragazzi, un gruppetto, ecco gestiscono in modo particolare questo e partecipano naturalmente anche gli incontri per i catechisti e anche tutto quello che è uno sguardo sull'oratorio, perché se non c'è nessuno, vanno bene le telecamere, tutte queste cose, però ci deve essere una presenza. Ora il parroco quando riesce va giù a fare un giro, non so chiacchiera, però oggi sai come la parrocchia, che è un po' come un'azienda, cioè ci sono tante cose liturgiche, ma anche tante cose che non sono liturgiche, ma dove il parroco ci deve essere presente ed è sempre il responsabile, come ancora il responsabile giuridico dell'oratorio, resta sempre il parroco, però c'è una presenza con l'aicale di un giovane, perché mi ha fatto il CRE, ha fatto molto bene, e naturalmente parlando con un po' di mamme, un po' di ragazzi, hanno visto, vedi Don Giovanni se riesce a trattenerlo almeno per un anno, gli ho dato l'appartamento del curato, gli do anche qualcosa così, e poi gli ho trovato anche di insegnare la scuola, nella scuola religione, in modo che abbia anche lui un sostentamento, naturalmente l'appartamento è gratis, nell'oratorio, e spero, provo per un anno con questa esperienza, anche se non è nuova per me, perché prima a Laglio avevo addirittura una famiglia, e sono molto contento, perché andando dopo tre anni a vedere, quei ragazzi, quelle ragazze che adesso hanno 20, 25 anni, erano là ancora tutti a servire, alle feste settembrine, nell'oratorio, quindi non è stata una spesa inutile, anche per là mi costava molto caro, perché era proprio messo a libri completamente, qui invece c'è la dipendenza un po' anche della scuola, quindi guadagna già qualcosa, anche nel mondo della scuola. È chiaro che la faccenda dovrà essere un pochettino ripensata, nel senso che, pensiamo anche lì vicino a te, Gazzaniga, è la parrocchia che era stata senza curato dell'oratorio, e siccome tutti siamo un po', dico preoccupati, però ci occupiamo quanto minimo dei ragazzi e dei giovani, e nelle nostre parrocchie l'oratorio è sempre stato uno dei luoghi, quanto minimo oggi non è più il luogo unico, però è senz'altro ancora uno dei luoghi significativi per l'incontro, per la formazione eccetera dei ragazzi e dei giovani, è chiaro che queste realtà qui ci interessano tutti, chi ci ascolta, che sia genitore, che sia nonno, che sia zio, credo che ha a cuore la sorte dei propri familiari piccoli ragazzi e giovani, ci chiediamo veramente, ma chi può accompagnarli, chi può seguirli, la grande fiducia che c'è sempre stata da noi negli oratori, però è chiaro che il venir meno della presenza stabile del prete, comincia a far traballare un po' quello che è sempre stato l'impiantamento, e dei nostri oratori, qual è la soluzione per il futuro? Appunto, chi ce l'ha in tasca? Non credo che nessuno abbia in tasca la soluzione, però provare a trovare delle soluzioni, che però Don Giovanni devono puntare però sempre sulla comunità, è quello che si sta dicendo, anche là dove vengono a mancare, ossia sottiglia la presenza dei preti, non è tanto il problema dei preti, tanti o pochi o nessuno, è la qualità e la partecipazione e la consapevolezza di tutta la comunità, perché se tutta la comunità è consapevole che l'oratorio è un fatto importante, beh, allora possiamo trovare anche e tentare delle soluzioni, se tutta la comunità è consapevole che se c'è solo un prete o poco più in parrocchia, bisogna che tutti si sentano coinvolti, cioè probabilmente si tratta di girare, se mai è necessario il discorso, da quello che era l'attenzione primaria o al prete o alla tal persona, eccetera, che in parrocchia faceva tal, su tutti, che poi detto così potrebbe sembrare, ma il rischio è che parlare di tutti è come parlare di nessuno, appunto far partire il discorso che la comunità non è tutti e nessuno, ma tutti e ciascuno, non so, ecco, per carità non ci perdiamo troppo in queste cose, ma alla fin fine credo che stiano a cuore a tutti, non stiamo a parlare di cose evanescenti, stiamo parlando dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, stiamo parlando della sorte delle nostre comunità, interessa a te, interessa a me, interessa a tutti questo discorso, mi pare. Sì, di fatti noi stiamo, senza fare il gran chiasso, passando da una parrocchia prete dipendente a una parrocchia come comunione di ministeri, cioè dove ognuno, dal battesimo, dalla propria, diciamo, vocazione di sposo, di laico, di consacrato, ecco, non deve più puntare il dito dicendo cosa il parroco fa per me, ma cosa io, avendo incontrato Gesù, posso fare per la mia comunità. Di fatti glielo ho detto e cerco di farlo capire anche a tutti i genitori che l'oratorio non è Don Giovanni e Matteo, ma l'oratorio è, diciamo, un po' come il vivaio dove la comunità adulta cerca di preparare questi ragazzi a una vita civile e onesta, ma soprattutto anche cristiana, cioè perché essere cristiani, diciamo, è una vita alta, è una vita bella, è una vita meravigliosa e naturalmente bisogna anche prepararli. Poi non è detto che uno, se non viene all'oratorio, non è bravo, magari è più bravo di noi. Noi gli diamo questa possibilità. Naturalmente l'oratorio ha qualcosa di più degli altri posti. All'oratorio si impara anche a pregare, a credere. Io qualche volta dico, ci sono due maniere per svuotare il mio oratorio. Ragazzi preghiamo, e no dopo. Ragazzi puliamo, e no, devo dirlo alla mamma. Ecco, pregare e pulire lo svuotano, invece di dire, no, preghiamo, puliamo, giochiamo, discutiamo, siamo amici, proprio perché all'oratorio c'è tutto, anzi c'è una cosa in più, la possibilità di incontrare Gesù. Mi fai pensare una cosa Don Giovanni, che noi adesso stiamo andando verso il mese di ottobre, che è il mese tradizionalmente dedicato alla missione della Chiesa. Ci sarà la terza domenica, la grande giornata missionaria mondiale, che coinvolgerà tutte le parrocchie, pregheremo per i missionari, per le missioni, cercheremo anche di aiutare, perché i missionari nel mondo stanno facendo un sacco di bene, e per fortuna che in tanti paesi del mondo ci sono i missionari, e diremmo soprattutto i missionari cattolici, che stanno spendendosi, e stanno anche spendendo, quello che noi gli diamo per fare delle opere di umanizzazione e di promozione umana. Però da quello che stiamo dicendo, Don Giovanni, mi viene un pochettino da pensare che senza svuotare il significato del mese di ottobre come mese missionario che ci fa guardare al mondo intero, che ci fa chiedere come annunciamo il Vangelo a tutte le genti, qui adesso si recupera il fatto che la missione è una missione che si ritrova qui da noi, e che finalmente ci rendiamo conto che la parola missionario, che il dire Chiesa missionaria, non ci fa guardare soltanto, ne dobbiamo farlo in giro per il mondo, ma ci fa guardare anche dentro la nostra comunità. E questo credo che sia una buona partenza col fatto che il primo di ottobre c'è la festa di Santa Teresa del Bambin Gesù, che non è mai stata in Africa, che non è mai stata in Asia, che è stata sempre nelle mura di un convento, e che è stata dichiarata patrona delle missioni. Forse questo ci aiuta a recuperare bene il senso della parola missione nella vita di ogni cristiano e nella vita della Chiesa. Difatti è il mese missionario, il mese di ottobre, a due patroni, Santa Teresa del Bambin Gesù e San Francesco Saverio, mettendo in pratica i due verbi del Vangelo. Santa Teresa, pregate il padrone della messe perché mandi operai nella mia messe. Gli operai non sono solo i preti, ma ogni battezzato. E l'altro invece, andate in tutto il mondo. Ecco, Francesco Saverio è andato nel mondo a parlare, non per turismo, a parlare di Gesù ed è morto alle soglie della Cina parlando di Gesù. Ecco, però adesso noi ci accorgiamo che nelle nostre parrocchie, anche qui della Valseriana, c'è molta religiosità ancora, però è una religiosità probabilmente staccata un po' dalla fede in Gesù. Poi vediamo anche i sacramenti, tanti eventi, li fanno bene, non so, prime comunioni, cresime, però si tratta di queste cose di evangelizzarli, cioè di vedere cosa Gesù ha da dire di bello sulla vita, sulle cose che facciamo, sull'uomo, anche sul matrimonio, nel quale tanti oggi non credono più. Quindi evangelizzare nuovamente nel senso che dobbiamo guardare un po' questo terreno che è cambiato e la parrocchia è terra di missione. Senza spettegolare, a volte dice, io abito in via rimembranze, siamo in cento, che andiamo a messa la domenica, siamo in dieci. Poi bisogna vedere quei dieci che vanno a messa, come escono? Perché proprio quei dieci sono talmente pettegoli che tengono fuori gli altri novanta. Noi dobbiamo interrogarci, dire, ma Gesù ci ha detto proprio così? Come possiamo diventare amici di Gesù e trasparenza di Gesù là dove ci troviamo? Quindi non devo più andare giù a correre dietro all'elefante o ai serpenti o vendere francobolli. forse devo magari vedere che in casa mia c'ho un marito che mi dice vai tu perché sei l'amorosa del parro come mi interessa ne gotti. No, guarda che il Signore interessa anche a te. Credi in chi? Ci siamo sposati nel Signore. Cosa vuol dire avere una famiglia cristiana? Perché abbiamo iscritto i nostri ragazzi alla catechesi? Perché? Perché? Perché noi ci andavamo quando eravamo piccoli devono andare anche loro. ma quando facendo così quando arrivano in prima seconda media prima sono davanti metà chiesa in fondo poi fuori come avete fatto voi. Allora il Signore non ci serve fuori. Ecco la missionarietà vuol dire proprio questo far capire che Gesù c'entra con la nostra vita ma non per rovinarci per metterci addosso dei pesi ma per renderci la vita più bella. Quindi missione è l'annuncio del Vangelo che va fatto a tutti a quelli che pensano di saperne già qualcosa a quelli che hanno superato tutto e rischiano di mettere il Vangelo nel cestino a quelli che vanno al primo banco della Chiesa tutte le domeniche e poi al mondo intero in effetti non dobbiamo eludere perché il rischio poi adesso è questo che facendo sì che la missione è da noi e nelle nostre parrocchie ci si dimentichi della missionarietà universale di effetti anche i nostri paesi per esempio che rischiano di non avere tante vocazioni sacerdotali tante vocazioni religiose i missionari non ci sono più giovani che vanno ad annunciare il Vangelo che dicono ma io voglio andare e annunciare il Vangelo si coniuga con la promozione umana qui Don Giovanni c'è anche un pochettino da chiarire i nostri missionari sono in giro per il mondo per dar da mangiare per darti alle scuole per dare ospedali o per annunciare il Vangelo o potremmo dire è il Vangelo che aiuta a fare anche tutte le altre cose io ti posso dire di una piccola inchiesta che ho fatto con i ragazzi di Quinta chi è il missionario è quello che fa le scuole però a noi non piacciono è quello che porta da mangiare è quello che cura i bambini poveri è quello che diciamo guarisce con le medicine dell'Europa ma nessuno mi ha detto il missionario è quello che annuncia il Vangelo c'è la bella notizia di un Dio che ti ama certo quando sei vai giù in Africa adesso non so in Africa o nelle posti del mondo dove uno non mangia prima cosa sarà da gli dare da mangiare però devi tener conto che un uomo non è un tubo digerente una pancia da riempire perché vediamo qui da noi che la gente ha la pancia piena ma è scontenta è infelice crea tante cioè bisogna anche annunciargli questo amore quindi il missionario vero è quello che annuncia l'amore di Dio verso l'uomo e naturalmente un uomo che è fatto di anima quindi di valori di verità e anche di corpo però il Vangelo dice che se cerchiamo le cose del regno di Dio cioè l'amore la solidarietà non ci mancherà niente neanche nel corpo di fatti è vero se l'uomo cercasse davvero la fratellanza cercasse la condivisione cercasse sempre di fare del bene non ci sarebbe nessun uomo in difficoltà invece noi tante volte crediamo che un ragazzo una ragazza stia bene solo perché mangia bene si veste bene vince delle medaglie in piscina al tiro a segno e pensiamo di risolvere il problema dell'uomo soltanto materialmente mentre invece l'uomo da quando è nato è aperto a Dio alla religiosità al motivo per cui vive perché se no uno anche che lavora no una volta su una tomba c'era scritto questo uomo ha tanto lavorato che si è dimenticato di vivere si è dimenticato di cos'è la vita e solo il Signore ti può dare una risposta vera ecco la missionarietà ottobre missionario adesso nelle parrocchie qualche iniziativa e quali potrebbero essere alcune iniziative magari anche con l'animazione dei cosiddetti gruppi missionari che vanno un po' ripensando la loro modalità di servizio diventano gruppi di animazione della comunità e anche chi fa parte di questi gruppi il rischio è che qualche volta lasciano un po' giù le braccia mentre invece sono delle presenze che se si ripensano e allargano un pochettino nel cerchio credo che possono fare tanto bene beh un problema grande è un po' io da una mia parrocchia ma sento anche in altre che ci sono tanti gruppi missionari ma che non collaborano insieme di fatti lì a Vertone ce ne sono 5 o 6 ma quello missionario parrocchiale che siamo poi in contatto con la diocesi sono poche persone però cosa fanno? beh oltre che una volta al mese pregano un po' ed è già tanto poi faremo la giornata missionaria la loro presenza e diciamo un po' di pubblicità organizzano ancora la classica vendita lotteria tirano su un po' di messe per i missionari cioè cercano di animare ma arriva il vecchio stile però se mancassero questi io credo che molte volte ci ridurremo proprio a pochi anche perché adesso è difficile avere il classico missionario con la barba che veniva ad esempio l'anno scorso a Vertone è venuta una ragazza e poi un ragazzo e hanno parlato della loro estate cosa hanno fatto nelle terre dove sono andati ecco magari anche li tirano dentro poco il Signore però hanno fatto del bene ecco perché qualche volta bisognerebbe dire o no perché lo fai? perché è proprio questo perché lo fai? perché se lo facciamo solo per motivi umani molte volte poi ci stanchiamo io penso che se noi facessimo le cose in parrocchia ad un leone per motivi umani stasera andiamo dal vescovo gli consegniamo le chiavi ma lo facciamo perché abbiamo scoperto il Signore che poi ci riempie di gioia nonostante tutto se no stasera andiamo su gli mettiamo le chiavi sul tavolo e diciamo vai te che ne sapete di più di noi però ecco abbiamo scoperto lui e ora andiamo avanti contenti bene allora andate in tutto il mondo e dite a ogni uomo la buona notizia la missione universale della Chiesa Chiesa cattolica è la missione che ovviamente comincia e inizia neanche dalla porta di casa nostra ma dentro in casa e poi attorno a noi per dire che l'essere cristiano è una grande grazia è una grande fortuna che illumina la vita che il cristiano veramente se vive secondo il Vangelo può avere pur in certe fatiche la gioia di una umanità vera di un'umanità che ha speranza che ha orizzonte di un'umanità abbondante e piena che questo sia detto a tutti attraverso l'annuncio del Vangelo a cui vogliamo collaborare anche collaborando con i tanti missionari che abbiamo in giro per il mondo proprio con questo spirito e questo stile grazie Don Giovanni della tua testimonianza grazie a voi che ci avete seguito come sempre l'augurio di una buona domenica grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi